Salve signor Barberini, sono felice che le ha accettato la proposta di questa intervista. Volevo chiederle, come prima cosa, se potete raccontarci un po' di lei. Con molto piacere, mi chiamo Gian Battista Barberini, sono nato all'Aino in Val d'Intelvi nel 1625. Sono uno scultore e la mia formazione artistica l'ho svolta in ambito familiare nell'area del Comasco. Inoltre, sono un esponente del barocco. Molto interessante. Vorrei chiedergli anche quali sono stati gli incarichi che ha ricevuto maggiormente durante tutta la sua carriera. Beh, c'è da dire che ho ricevuto molti incarichi di vario genere, ma sono stato richiesto in maggioranza per le decorazioni di varie chiese. Ad esempio, nel 1666, mi recai a Cremona, dove nella chiesa di Sant'Agostino realizzai degli altri rilievi con episodi della passione nell'anonima cappella e le dodici statue dei patriarcati e dei profeti, situate nella navata centrale. Subito dopo, tra il 1667 e il 1669, mi recai a Vienna, per delle decorazioni, che completai però successivamente tra il 1680 e il 1682. Nel 1600, aspetta, non ricordo. Ah sì, nel 1678, tornai a Mantua, per realizzare l'altare maggiore della chiesa della Santissima Trinità. Ce ne sono tante altre, ma non ricordo molto bene. Sono passati così tanti anni. Ha avuto anche i carichi di altro genere? Come già ho detto, oltre alle decorazioni delle chiese, ho lavorato anche nei palazzi di molti signori e ho realizzato delle statue. Nel 1672 ho scolpito a Genova le otto statue dei benefattori nello scalpone d'onore dell'albergo dei poveri, mentre nel 1674 decorai la facciata interna di Palazzo Valenti, Gonzaga, a Mantua. Nel 1675 inizia a lavorare presso gli organi e l'altare maggiore della Basilica di San Petronio di Bologna, per poi tornare anche nel 1683 per le decorazioni di Palazzo Sordi. Nel 1687 tornai in Svizzera per degli stucchi a Castel San Pietro e per realizzare putti e decorazioni in due cappelle della chiesa collegiata, dei Santi Pietro e Stefano a Bellinzona. Nello stesso anno realizzai anche la bellissima volta della chiesa di Santa Cecilia a Cuomo e ho realizzato anche altre opere negli anni successivi a Cuomo, come la chiesa dell'Annunciata e Vincenza nel Palazzo Trissino. Molte persone però reputano che non sia stato io a realizzarle, ma tale attribuzioni sono incerte. Qual è stata la sua prima opera? La mia prima opera è intitolata Le Sibille e i profeti a tutto tonno sui pennacchi degli archi della collegiata di Bellinzona nel 1661 a Doffman e subito dopo Gli stucchi della parrocchiale di San Lorenzo a Laino, dove dal 1664 al 1667 feci le superanti decorazioni delle volte e sei riquadri con le storie di San Lorenzo. Anche i Santi a tutto tonno contro le lesene della Navata, Sant'Andrea, San Rocco, San Sebastiano, eccetera. Però molto più tardi, nel 1689. Sempre a Laino, nell'Oratorio di San Vittore, sono mie la statua del santo e le decorazioni a stucco. A bei tempi fungevo anche da sovrintendente ai lavori, consigliere ed economo. Qualche personaggio importante le ha attribuito qualche lavoro? Il conti mi attribui in Valdintelvi, stato dell'Oratorio di San Giulia di Claino, e in quella della Madonna di Garello. Signor Barberini, grazie per la sua disponibilità. L'intervista finisce qui. Grazie, è stato un piacere. Grazie. 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 Grazie.